Vieni qua, vieni qui Raz, allora tu puoi tornare. Eccola qua, vai. E' qua? Sì. E' questa? Sì. Non ci posso credere. Credi? Non ci posso credere. Posso? Allora, una cosa con la vita, perché è molto incredibilmente stretta. Esatto, lei è la donna col girovita più stretto del mondo. Guarda cos'è. Pazzesco. 38 centimetri. Venti, vai. 38 centimetri di girovita. Pazzesco. E lei pensa, ma è incredibile. Pazzesco. È pazzesco, lei ha scoperto questo suo amore cominciando a indossare dei bustini, perché lei è amante dei bustini, e allora è entrata in fissa col Guinness e ha detto io voglio diventare la donna col girovita più piccolo del mondo. Guarda qui. Ma incredibile. Sì, 38. Complimenti, complimenti. Grazie, grazie. Prego. Prego, riesci a camminare. Io la vedo un po' stessa.